Eccoci, amici cari, buonasera, anche questa sera, sabato, ma non molliamo, ci hanno oscurato ieri sera e noi ci ripresentiamo nuovamente. Cosa devo dire, cari amici che provate a bloccarci, che ci oscurate, che ci censurate, è inutile, più ci censurate e più canali apriamo, perché noi facciamo gli interessi del popolo e il popolo ci sostiene quotidianamente in queste nostre battaglie, perché sono battaglie di legittimità, di costituzionalità, siamo felicissimi di stare anche stasera qui con voi, sabato sera, insieme. Facciamo quello che ci hanno oscurato ieri sera, pensate che ieri sera ci hanno oscurato una delle fasi fondamentali del nostro lavoro, cioè impariamo insieme, abbiamo pubblicato il nostro facsimile per impugnare le multe che ci hanno fatto, quelle illegittime, abbiamo sempre detto quelle illegittime le dobbiamo pagare, ma molte delle multe che ci hanno fatto sono illegittime, le impugniamo insieme. Basta andare sul nostro sito, lo studio legale polacco, troverete il pulsantino contattaci e sotto ci sarà il link da copiare con le istruzioni per il ricorso. Abbiamo cominciato a pubblicare un facsimile abbastanza generale per gli articoli 1 e 4, ne faremo altri, in continuazione metteremo nuovi facsimili, abbiamo tempo fino al 15 giugno, ricordatevilo. Allora vi faccio vedere come è composto un modulo, così lo compiliamo insieme. Se ci saranno problemi nei prossimi giorni me lo dite, ce lo raccontiamo e impariamo a presentare questi ricorsi entro il 15 giugno. Allora vi faccio vedere come sono creati, ecco qui, questo lo trovate sul nostro sito al prefetto di Roma, basta mettere, vedete, i vostri dati, il verbale, il numero del verbale e poi qui iniziano i motivi, l'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto del 19 giugno. Adesso, dopodiché, come vedete, ci sono anche tutte le motivazioni costituzionali, le leggi costituzionali che loro, con il loro DPR, che con il loro decreto di legge, con il loro DPCM hanno completamente violato, basti pensare agli articoli 19 e 20 contro le messe, all'articolo 16 della Costituzione che consente a tutti di spostarsi liberamente all'interno del territorio nazionale e poi, ecco, vedete, si conclude con tutte quante le motivazioni giuridiche. È abbastanza semplice, non ci dovrebbero essere problemi. Nel momento in cui avrete qualche problema, noi siamo qui e lo diciamo ai nostri nemici. Noi siamo qui, non solo siamo oggi qui, ma siamo a tutelare i cittadini italiani per i prossimi 30 anni. L'Avvocato Polacco ha deciso di morire con la toga a 93 anni, quindi mi dispiace per voi, rimarremo qui. Facciamo un piccolo escursus di quello che è successo in questi giorni, microscopico escursus. Stasera facciamo una cosa molto breve, ma siamo talmente felici di rivederci. Vediamo se ce l'oscureranno anche questo, ma avverto che ci oscura, che in questo momento ho altri due cellulari che mi stanno riprendendo e per cui noi lo riproporremo, lo riproporremo su Instagram, su YouTube. Vi dovrete stancare di oscurarci, perché la voce del popolo non può essere oscurata, perché le idee non le potete uccidere e noi ci siamo e rimarremo qui. Vediamo che cosa è successo. Vi ricordate l'altro giorno? Vi ho fatto vedere tutto quello che è stato pubblicato, quindi non abbiamo inventato nulla, dei messaggini che si scrivevano i magistrati per fare carriera, per silurare quello, quell'altro. Vi abbiamo fatto vedere, hanno arrestato uno dei capi della procura pugliese, il procuratore capo di Trani. Ecco, vedete, ci sono dei meccanismi però che non riusciamo a comprendere. Un cittadino fa un imbroglio, lo arrestano, lo processano. Un politico fa un imbroglio, lo processano, lo arrestano. A un certo punto passiamo alla magistratura. Ricordiamo, ci sono tanti bravissimi, meravigliosi magistrati come il PM di Trani, quella giovane PM che abbiamo ringraziato, che ha fatto scoperchiare gli inganni all'interno della sua procura, ma ci sono altri che non fanno il proprio dovere. E allora però che succede quando un pubblico ministero non fa il proprio dovere? Leggiamo, eh? Caos nelle procure. Il CSM trasferisce Sirignano, un PM sistema della DIA, stiamo parlando della direzione antimafia, sarà trasferito per incompatibilità ambientale perché è stato oggetto delle intercettazioni dello scandalo Palamara. Allora, ma scusate, una domanda, mi pongo una domanda, la pongo voi. Siamo cittadini nello stesso modo, ma perché se un cittadino fa un imbroglio, se un cittadino fa un qualche cosa di sbagliato, se un politico fa un qualcosa di sbagliato, va in carcere, il magistrato viene trasferito. C'è qualcosa che non va in questa organizzazione. Viene trasferito e lì finisce la situazione. Magari viene trasferito il posto ancora più carino. Ecco, noi vogliamo giustizia. Vogliamo giustizia, vogliamo che la magistratura ritorni ad essere la magistratura pura di cui un popolo ha assolutamente bisogno. Ma in questo contesto, ricordatevi cosa è successo l'altro ieri, una settimana fa, con le famose mascherine del Lazio. Le mascherine, 35 milioni di appalto dati a una ditta che faceva lampadine, 11 milioni dati in anticipo. Ma voi vi immaginate una pubblica amministrazione che da 11 milioni di anticipo a una ditta? Ebbene, la regione Lazio ha detto che non centriamo nulla noi, è stato il capo della protezione civile del Lazio. Allora noi l'avranno arrestato? No. L'avranno cacciato, almeno cacciato. No. Ecco qui, vi faccio vedere il titolo carino, eccolo. Il capo della protezione civile del Lazio viene promosso e quindi gli danno ancora più soldi. E non lo stiamo dicendo noi, guardate il titolo. Il capo della protezione civile viene promosso dal caso delle mascherine ai fondi antivirus. Ma secondo voi, ma questo è un paese normale o un paese o di stolti o di farabutti? Io non lo so. Ditemi voi quello che pensate. Felici di avervi visto anche stasera di sabato sera. Ricordatevi, ci vediamo lunedì alle ore 19, ma ci vedremo anche durante la giornata, perché ogni tanto farò qualche piccola entratina nella vostra casa in modo che se c'è qualcuno che ci vuole bloccare non ci riuscirà. Peggio per lui. Lo facciamo lavorare di più, ma noi siamo presenti. Buona domenica, un abbraccio. Viva noi!